Ciao, mi chiamo Ginoise Casimiro, sono un sottofficiale dell'esercito e mi occupo di formazione, sono un istruttore di paracautismo e ho frequentato il corso di funzionalità e la cosa che posso dire è che è stata una novità davvero che ci ha dato modo di scoprire delle caratteristiche primordiali ormai sconosciute. La cosa positiva che posso dire è che questo corso ci porterà sicuramente a prevenire degli incidenti e a migliorare le nostre prestazioni fisiche.